Ora manca soltanto la nomina degli assessori e il nuovo corso per la Regione Calabria dopo le elezioni anticipate potrà effettivamente iniziare. Mario Oliverio si è insediato questa mattina dopo la proclamazione ufficiale di ieri e ha raccolto il testimone da Antonella Stasi. Con lui le figlie e le nipoti, i collaboratori e tanti sostenitori. Un colloquio riservato di 20 minuti con la Stasi e poi la conferenza stampa all'insegna della sobrietà perché la Calabria ha bisogno di questo ed è il recupero di una dimensione etica della funzione istituzionale di rappresentanza. Io credo che bisogna impegnarsi a fondo senza sconti per contrastare la corruzione, per contrastare la criminalità organizzata che spesso condiziona, infiltra, pervada la vita delle istituzioni. Per fare questo è necessario un concerto di rapporti, di relazioni con i poteri dello Stato, con gli altri poteri dello Stato ma anche un'iniziativa propria delle istituzioni. Le condizioni sociali ed economiche non consentono di perdersi in sfarzosi festeggiamenti ma impongono di lavorare in silenzio. Basta citare i 26.000 lavoratori in cassa integrazione per capire di cosa si trova ad affrontare il nuovo governo. Nulla di più rispetto al passato, direbbe qualcuno, con la differenza che il tempo passa e la Calabria stenta a cambiare ed Oliverio ha già confermato che sono questi gli anni decisivi, a meno per quello che lo riguarda perché dopo questo mandato non ci sarà un'ipotesi di bis. Un pensiero anche agli sconfitti e soprattutto a Vandaferro, tagliata fuori dal Consiglio regionale da una legge elettorale quanto meno rivedibile. Io ritengo che questa legge elettorale che esclude il migliore dei perdenti è una legge elettorale sbagliata, che va corretta questa legge elettorale e quindi il nostro impegno sarà quello di approvare una nuova legge elettorale entro il prossimo anno non alla fine della legislatura che contempli anche questa possibilità. Ed infine subito una proposta da portare a Roma sulla questione sanità. Io chiederò al governo di porre nel rispetto della legge al primo Consiglio dei Ministri utile la nomina del commissario nel nuovo presidente della regione e da lì si ripartirà per mettere mani alla riorganizzazione del sistema sanitario calabrese con l'obiettivo in questi anni di governo che noi abbiamo davanti di portare la mobilità passiva ad un dato fisiologico come appunto avviene anche per le altre regioni. Grazie.